Oh, chichi, c'è nessuno in casa? Pobrite che me sto cacassotto nel freddo! M'ho chiesto qua, scusi, ma che fa? Cosa grida? Bro, chico, pa' me' entrava, che me ce' ho fatto una cortina in quattro ore e sei minuti. Soppa po' che sconporto! Ma spenga quella musica! Ma che te non ti piace la tecnica? O senti che roba? No, non ci piace. E poi qui c'è gente che sta ancora a letto. T'hanno a scopare, eh? De mattina ma come gli amacosto, freddo. Oh, ma che modo di parlare? Siamo nel Vinetto, nelle perle delle Dolomiti. Mica il campo di carne. O senti, cosa che ti dico? Ma fammi entrava!